Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, usuale, disordine della mia libreria. Allora, cari signori, sono passati due anni da che ho aperto questo canale e tra le tante cose mi sono accorto che non ho mai parlato di una cosa estremamente importante, di un'arma estremamente importante, per non dire fondamentale, dell'immaginario collettivo riservato alla seconda guerra mondiale. Perché, diciamoci la verità, mi sono accorto soltanto adesso di non avere mai parlato di un'arma fondamentale per raccontare la seconda guerra mondiale. Che arma? Ve lo dico subito. Sempre da la seconda guerra mondiale di Arrigo Petacco, il quinto volume, signori, la scheda tecnica del cannone da 88 mm, del FLAC da 88 mm, del cannone FLAC 36-37, eccolo qui, del FLAC 36-37, da 88 mm o da 8,8 cm, secondo la denominazione tedesca, in questo caso accompagnato dallo SDKF Krauss Maffei, il suo, diciamo, rimorchiato, il suo traino dedicato, il semicingolato dedicato al traino del cannone da 88. Eccolo qui, l'arma, un'arma leggendaria, un'arma che è nell'immaginario collettivo veramente degli appassionati della seconda guerra mondiale. Un'arma assolutamente fondamentale nella storia della seconda guerra mondiale. Perché? Perché è un pezzo d'artiglieria che oggettivamente ha fatto scuola, è un pezzo d'artiglieria che ha fatto realmente la storia. Le origini di questo cannone risalgono addirittura alla prima guerra mondiale, quando lo stato maggiore tedesco, sempre, diciamo, alle prese con una sempre crescente attività aerea degli alleati, decise di far mettere allo studio un tipo di cannone per specifico uso antiaereo. I ricercatori appurarono che il calibro ottimale per un simile impiego era l'88 mm, o, per meglio dire, l'8,8 cm, secondo la consuetudine tedesca di esprimere i calibri in centimetri anziché in millimetri. Venne così costruito il primo modello di 88 della storia, che diede buoni risultati, ma oramai la guerra era persa e l'arma finì nel dimenticatoio. Ma negli anni precedenti al riarmo molti tecnici tedeschi si recarono all'estero presso ditte compiacenti, che permettevano, sotto una copertura di comodo, di svolgere esperimenti e collaudare i prototipi di quelle che in futuro sarebbero divenute le potenti armi della risorta Wehrmacht. Diciamo, i tedeschi non si vergognarono minimamente di collaborare con i sovietici, la famosa scuola Carri di Kazan, non si vergognarono minimamente di installare fabbriche clandestine, fabbriche che erano riconducibili come proprietà alla Germania in paesi neutrali come la Svizzera o giusto appunto la Svezia. Allora, queste coperture di comodo permettevano di svolgere esperimenti, dicevo, e di collaudare nuovi tipi di armi. Così, nelle officine Bofors in Svezia, il nuovo cannone antiaereo fu progettato e costruito e chiamato 8,8 cm Fliegerabwehrcanon 18, ovvero sia cannone contraereo modello 18 da 8,8 cm. Allora, questo pezzo era incavalcato su di una fusto a croce, sospeso su due carrelli ed era trainato da un apposito trattore. Ebbe il battesimo del fuoco in Spagna, come tantissime altre armi, dove per un'improvvisa necessità dovete sparare in tiro anticarro, dimostrando, ovviamente, qualità eccezionali. Si riscontrarono peraltro alcuni difetti, come una eccessiva laboriosità nella sostituzione delle canne logorate dal tiro e una scarsa praticità del tipo di carrello adottato. Insomma, nessuno è perfetto. Insomma, erano cose, tutto sommato, erano piccoli peccati veniali, per il resto si trattava di un pezzo di artiglieria assolutamente eccezionale. Si provvide ad apportare le necessarie modifiche e dal vecchio FLAC 18 modificato nacque così il FLAC 36-37, che diverrà famoso sul campo di battaglia come il terrore dei mezzi corazzali. Perché oggettivamente questo bestione qua che vedete era oggettivamente uno dei migliori pezzi di artiglieria contro carro della Seconda Guerra Mondiale e indubbiamente anche della storia. L'esemplare che vedete in questo disegno ha anche sulla canna i cosiddetti anelli di vittoria. Come vedete, tra aerei e carri armati ha fatto, come dire, a pulire questo simpatico bestione qua. Allora, dicevo, dal modello 36-37 deriveranno il tipo 41, il tipo 43 e il tipo 43-41, che erano tutte, diciamo, varianti di questo eccezionale, di questo straordinario pezzo d'artiglieria, ok? Ma rimaniamo al 36-37, che è il tipo più conosciuto, illustrato in questa figura, ok? Il suo debutto avvenne sulle sabbie della Cirenaica, dove effettivamente fece una strage di mezzi corazzati alleati e si conquistò la meritata fama che lo seguirà per tutto il conflitto. L'armamento comprendeva 12 serventi, ovvero sia una squadra piuttosto nutrita, ma all'occorrenza ne potevano bastare sei. La cadenza di tiro era eccezionale per un pezzo d'artiglieria così grosso, perché andava dai 15 ai 20 colpi al minuto, che potevano avere una gittata massima di 10.600 metri in tiro contro aereo e di 14.680 in tiro terrestre. Naturalmente, e qui ricordatevelo signori, naturalmente, la gittata in tiro contro carro era estremamente inferiore, perché in quel caso, ricordatevelo, cacciatevelo nella testa signori, per favore, prima di fare figuracce, ricordatevi una cosa, che nel tiro contro carro è necessario che la traiettoria del proiettile sia tesa, il più tesa possibile. Insomma, il pezzo poteva essere messo rapidamente in batteria, ma all'occorrenza, in caso di emergenza, poteva aprire il fuoco anche mentre era montato sul carrello di traino. I serventi erano trasportati su di un grosso trattore per artiglieria e nel corso della guerra questo trattore d'artiglieria dedicato per l'88, per, insomma, per l'88 Flak 3637 fu il Krauss Maffei SDKF27. Eccolo qua. Uno dei più classici semi cingolati tedeschi. Eccolo qui. Allora, il Krauss Maffei SDKFZ27 era un semi cingolato con treno di rotolamento a ruote sfalsate. Ve lo ricordate il treno di rotolamento del Panther e del Tigre? Eccolo qua. Di nuovo sui semi cingolati. Per la serie, alle nostre squadre di manutenzione, noi ingegneri tedeschi non gli vogliamo male, gli vogliamo peggio. Vabbè, signori, scusate l'ironia, ma però l'idea che uno ha è questa. Allora, il Krauss Maffei era in grado di trascinare tranquillamente le sette tonnellate del cannone con il carrello più una tonnellata e 1300 kg di carico. Allora, il Krauss Maffei venne costruito, eccolo qui, il Krauss Maffei venne costruito in circa 5000 esemplari che vennero impiegati su tutti i fronti di guerra, dal Mediterraneo alla Russia, passando per l'Europa continentale. Alle volte questi esemplari, questi trattori, furono modificati con l'eliminazione dei posti sul cassone alle spalle del guidatore e la loro sostituzione con un cannoncino o una mitragliera quadrinata da 20 mm. Ne avete visto uno in Salvate il soldato Ryan, se avete presente. Negli esemplari di serie per il treno dell'88 aveva in dotazione delle portiere laterali in tela con finestrini in tela e mica, per la parte trasparente, che servivano a proteggere l'equipaggio dagli agenti atmosferici. In questo caso, trattandosi di un mezzo destinato a operare in ambiente desertico, come quello della Libia, queste portiere e questi finestrini laterali staccabili non sono montati, perché oggettivamente nel deserto non servivano. Insomma, una copiata, quella del Krauss-Maffei, eccolo qui, con l'88, che fu una delle immagini della Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale. Il pezzo da 88, il cannone da 88 mm, fu indubbiamente uno dei migliori pezzi d'artiglieria della sua categoria durante la Seconda Guerra Mondiale. C'erano altri pezzi d'artiglieria eccellenti, cioè anche gli inglesi avevano dei pezzi d'artiglieria simili, ma non erano altrettanto versatili. Noi italiani avevamo l'eccellente cannone da 90-53, che era anche quello un ottimo pezzo, ma ahimè ne avevamo troppo pochi. L'88 rappresenta veramente la leggenda, il mito, se vogliamo, dell'artiglieria tedesca. Un pezzo d'artiglieria estremamente versatile, ripeto, perché aveva eccellenti prestazioni antiaeree, ma nel tiro contro carro, che necessita di una velocità del proiettile alla bocca estremamente elevata e di un tiro il più teso possibile per non far perdere energia cinetica al proiettile, dicevo, si trattava veramente di un'arma a dir poco micidiale. Se ne accorsero molto amaramente i Matilda nel deserto africano, se ne accorsero amaramente i russi durante l'operazione Barbarossa. Ah, e dimenticavo anche i francesi durante la campagna di Francia, perché l'88 mm, insomma il cannone dell'88, era una delle pochissime armi in grado di mettere fuori uso quel mastodonte dello Char B-1 bis, di cui vi ho parlato qualche tempo addietro. E ricordiamoci una cosa, durante l'operazione Barbarossa, nonostante la superiorità tecnica dei carri sovietici, come per esempio il KV-1 o KV-2 e il T-34, se i tedeschi ebbero la meglio sugli inesperti, spaesati e soprattutto impiegati malissimo T-34 e KV-1 e 2, dicevo, fu non tanto per merito dei carri armati, dei Panzer, ma fu per merito essenzialmente dell'artiglieria, sia dell'artiglieria campale, che insomma sappiamo bene l'artiglieria campale tedesca che era dannatamente efficiente, sia soprattutto per l'uso, per la versatilità d'uso del cannone da 88 mm, che era l'unico in grado di fermare il KV-1 e KV-2 e soprattutto il T-34. Oggettivamente sappiamo bene che i successi di Barbarossa furono dovuti sia alle superiori tattiche tedesche e anche alla versatilità d'uso dei cannoni da 88 mm, ma furono dovuti i trionfi tedeschi di Barbarossa, furono dovuti anche agli errori gravissimi commessi dall'Armata rossa e da Stalin e furono, come dire, anche svantaggiati dal fatto che invece di essere impiegati in massa per travolgere le forze corazzate tedesche, i T-34 e il KV-1 e 2 erano usati praticamente in piccoli gruppi o addirittura da soli. E questo qui ne fece, nonostante fossero ossi estremamente duri da rodere, ne fecero facilissimi bersagli per cosa? Per gli aerei da attacco, ad esempio di Stuka, o semplicemente per il cannone da 88 mm, che fu il vero nemico delle forze corazzate sovietiche durante Barbarossa. Fu l'artiglieria la vera arma vincente tedesca durante l'operazione Barbarossa, perché la maggior parte delle forze corazzate sovietiche fu distrutta non in combattimenti carro contro carro, ma fu distrutta, la maggior parte delle forze corazzate sovietiche, fu distrutta proprio dall'artiglieria tedesca e dal cannone da 88. Eccolo qua. Insomma, un'arma simbolo per la Wehrmacht, un pezzo d'artiglieria che aveva sì alcuni difetti. Ripeto, la versione 36-37 aveva il problema di avere un ricambio, di essere molto macchinosa nella sistemazione, di avere un eccessivo bisogno di uomini per essere messi in batteria, anche se in situazioni di emergenza la squadra di 12 artiglieri poteva essere dimezzata a sei, la laboriosità della messa in batteria, la non eccelsa facilità di cambio dell'anima della canna, perché bisogna sempre ricordare che quando si tratta di pezzi di artiglieria, dopo un certo numero di colpi, possono essere 150, 200 o 300 o anche 400 colpi, a seconda del tipo di arma, a seconda della velocità alla bocca del proiettile, eccetera, eccetera, dicevo, la canna, l'anima della canna si logora e l'anima della canna va sostituita prima o poi. E un difetto del cannone da 88 era che sostituire l'anima della canna era una faccenda dannatamente lunga, rognosa e non propriamente facile. Il cannone da 88 era un bel bestione perché fuori tutto al traino era lungo 7,77 m, era largo 2,31 m, alto 2,40 m. Allora, però quando era in posizione di fuoco la lunghezza era di circa 5,80 m, la larghezza in posizione di fuoco era di 5,14 m e l'altezza in posizione di fuoco era di 2,10 m. Il peso in assetto di guerra era di circa 6 tonnellate, 6.000 kg. Il brandeggio era di 360 gradi. L'alzo andava da meno 3 a più 90. Aveva un otturatore a cuneo orizzontale. La canna del cannone da 88 flak 36-37 era lunga 56 calibri. Il calibro era il canonico classico famoso e immortale 88 mm. Ok? Ah, e ricordatemi una cosa, sfrutto le parole dell'amico Enzo Maio che ha una massima quando si tratta di queste armi. Quando si tratta di artiglieria occorre ricordare sempre una cosa, che il carro armato su cui viene montato il pezzo d'artiglieria è meno importante del cannone, il proiettile che il cannone spara è sempre più importante dell'arma stessa. Ok? Tenete presente questo. Poi, dicevo, i cannoni da 88 e i loro derivati furono montati sui tigri, sui Koenigstiger, su diversi mezzi corazzati per farne dei cacciacarri. Insomma, un pezzo d'artiglieria, il flak 36-37, che aveva delle caratteristiche eccezionali. Invece il Krauss-Maffei, il semi-cingolato, il trattore semi-cingolato con il treno di rotolamento a ruote sfalsate, ripeto, i progettisti tedeschi alle squadre di manutenzione gli volevano veramente male, diciamoci la verità. Era un bestione lungo 6,85 m, largo 2,40 m, alto 2,76 m, con un peso a vuoto di 9.750 kg. A pieno carico arrivava a pesare 11.550 kg, ma anche qualcosa di più. L'equipaggio era di 12 uomini, la squadra che doveva mettere in funzione l'88, l'accoppiata Krauss-Maffei cannone da 88, eccolo qua, il massimo di trincea superabile era di 1,80 m, la pendenza superabile con il traino era di 24 gradi, no, scusate, senza traino era di 24 gradi e di 12 gradi con il traino. L'autonomia era di 300 km senza traino e di 100 con il traino. Il motore era il Maybach HL62TUK a benzina da 140 CV. Insomma, una copiata questa che fu uno dei simboli della Wehrmacht durante la Seconda Guerra Mondiale. Il semicingolato Krauss-Maffei e il cannone da 88. Insomma, una copiata micidiale, una copiata che pur non essendo priva di difetti, ripeto, la macchinosità della messa in batteria, la difficoltà del cambio dell'anima della canna del pezzo di artiglieria, le difficoltà di manutenzione del Krauss-Maffei perché con il treno di rotolamento a ruote sfalsate c'era sempre di che bestemmiare. Però si tratta di una copiata, si tratta di una combinazione che durante la Seconda Guerra Mondiale fece davvero furore e si conquistò un posto nella leggenda. Tutto qui. Poi, quando gli alleati presero le misure, quando i cacciabombardieri americani e inglesi impararono a fare la caccia alle batterie anticarro e alle batterie della Flak, i carri britannici e americani operarono quasi al sicuro, anche se un cannone da 88, soprattutto nelle versioni dedicate all'anticarro, non le polivalenti o antiaeree come quella che avete visto qui, ma diciamo le versioni dedicate all'anticarro dell'88, erano pur sempre dei clienti molto 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 brutti. E i veri protagonisti, ripeto, della guerra sul fronte orientale e occidentale non furono tanto gli scontri fra carri, che pure ci furono e furono feroci e tremendi, ma furono i duelli tra gli artiglieri e i carristi di tutti e due gli schieramenti. Cioè, i cannoni contro carro erano, contrariamente a quello che si pensa, gli equipaggi alleati di carri armati, sia inglesi che americani, non erano spaventati dai Tigre, dai Panther o dai Königstiger, no? Erano spaventati più che altro dagli anticarro, dalle imboscate, dalle imboscate fatte con i Panzerfaust o con i Panzerschreck, dalle imboscate fatte con i cannoni anticarro. E furono i cannoni anticarro e non i carri armati a infliggere le maggiori perdite sia agli alleati occidentali che ai russi. E ripeto nuovamente, il cannone da 88 mm, ancor più che in Africa settentrionale contro i Matilda, fu il vero vincitore, se vogliamo, dell'operazione Barbarossa, perché la maggior parte dei carri sovietici distrutti non fu distrutta in combattimento carro contro carro, ma fu distrutta dall'artiglieria, dall'artiglieria campale e dai cannoni contro carro da 88 mm. Tutto qua. Quindi, cari signori, come sempre, per ulteriori considerazioni sul cannone, sul Flak 88 e sul suo traino, sul Krauss-Maffei, come sempre ci sono i commenti, come sempre, aspetto le vostre considerazioni, come sempre, arrivederci, cari signori, al mio prossimo video. Ciao!